Sarà salvaguardata una buona quantità di personale dipendente attualmente in forza all'Ivv, per cui è un raggio di sole che per noi è sicuramente una notizia importantissima. Si apre una nuova era per l'industria vetraria valdarnese, che nei mesi scorsi aveva avviato il procedimento di liquidazione coatta amministrativa a causa dell'impatto insostenibile dei costi dell'energia. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha infatti autorizzato l'affitto del ramo d'azienda a tradizioni associate di Diego Toscani per il rilancio dello stabilimento. Si sta aprendo un nuovo capitolo e in questo senso va detto che il commissario che si è insediato alla fine di giugno ha lavorato in maniera stretta con coloro che appunto hanno avuto fino a poco tempo fa anche incarichi di responsabilità all'interno della cooperativa. ed è una notizia di pochi giorni fa, il fatto che il Ministero ha dato il via all'affitto del ramo d'azienda, c'è un soggetto che chiaramente ha fatto una proposta e che poi sarà quello che diventerà appunto protagonista di questa nuova avventura. Da informazioni che sono riuscita a mettere insieme e che ho poi comuniato il Consiglio Comunale un paio di giorni fa, a inizio anno ci sarà molto probabilmente l'inizio della nuova produzione. Il prossimo step sarà l'accordo che sarà firmato tra Ministero e tradizioni associate.